E' stata condannata nella giornata di ieri la donna medico di turno al pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli la notte del 6 maggio 2006. Il Tribunale di Vallo della Lucania, dopo oltre sette anni di processi e interrogatori, ha processato la donna condannandola alla pena di un anno e mezzo di reclusione. Quella notte del 2006 al pronto soccorso cilentano è arrivato Pasquale Piccariello, 19 anni di Agropoli, ferito a seguito di un incidente stradale. Dopo ore di agonia Pasquale è morto. Il procuratore aprì immediatamente un'inchiesta, sequestrando la cartella medica. Nella giornata di ieri il giudice Donatella Bove ha condannato il medico di turno per omicidio colposo. E' stato un processo lungo ed estenuante, ha commentato il legale della famiglia Piccariello e Eugenio Benevento. Siamo riusciti a dimostrare l'inadeguatezza delle cure ricevute dal giovane.